A Milano nel secolo scorso si costruivano automobili. E che automobili? Oggi di quel passato non è rimasto quasi niente. All'epopea dell'industria automobilistica milanese è dedicato un bel libro di Costantino Corbari, I motori di Milano, edito da Bibliolavoro. Cosa troverà il lettore in questo libro? Nel libro si intrecciano due vicende, quella delle fabbriche che hanno costruito, prodotto automobili nell'arco del secolo scorso, nei cento anni, a Milano e in Lombardia, e la storia dei lavoratori che in quelle fabbriche hanno vissuto. È interessante scoprire attraverso la lettura del libro, attraverso le pagine, che accanto ai grandi nomi, Alfa Romeo soprattutto, autobianchi e innocenti che hanno segnato in modo forte il mondo produttivo dell'automobile, durante i primi anni del novecento e poi anche tra gli anni venti e trenta, ci sono state tantissime aziende a Milano e anche in Lombardia che hanno prodotto automobili, alcuni addirittura hanno prodotto una sola automobile. Il sottotitolo è Tutte blu per il secolo veloce, che cosa significa? È secolo veloce perché all'inizio del novecento, con la scoperta del motore scoppio che è di fine ottocento, molti si lanciano nella costruzione di automobili, ma come di aeroplani, il treno e così, cioè quindi la società acquista velocità che fino a quel momento non aveva conosciuto. È un periodo che è segnato ad esempio dal movimento artistico dei futuristi, dalle prose di Marinetti che inneggiano appunto alla velocità e sulla spinta di questo ci sono molti che si lanciano nella produzione di automobili appunto. Alcuni con successo diventeranno poi imprese significative, altri riescono magari a produrre anche una sola automobile, ma investono tutto il loro patrimonio perché si innamorano di questa nuova possibilità, di questa nuova macchina che supera il tempo, la velocità e che è la grande novità del secolo del novecento. Il libro è anche un libro di storia di lavoro e di lavoratori? Nel libro, accanto alla storia delle fabbriche, c'è anche la storia dei lavoratori che dentro quelle fabbriche hanno vissuto. Questa è una storia particolarmente interessante perché narra di lotte, di battaglie che i lavoratori hanno condotto per far crescere i loro diritti, aumentare le loro tutele, garantire maggiore sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo mostra come questi lavoratori fossero profondamente coinvolti nei destini delle aziende. C'è una grande professionalità e allo stesso tempo una grande responsabilità sul futuro di queste fabbriche e c'è poi nel finale la grande delusione per vedere come una dopo l'altra queste aziende sono tutte finite.